care teste fiorite buon venerdì bentornati a questa rubrica video che oggi mi pone una domanda cioè mi autopongo una domanda su cui mi ha fatto riflettere un bambino che ho avuto la fortuna di incontrare qualche settimana fa durante un incontro purtroppo in mani in forma virtuale mi ha chiesto che mestiere faccio io mi sono trovata in estrema difficoltà perché effettivamente non so dire che mestiere faccio quando ho il cappello cioè sempre perché sono io test di teste fiorite che cosa faccio a lui ho provato a dire che mi occupo di libri per bambini e ragazzi e provo a dare agli adulti gli strumenti per poterli leggere e farli arrivare come arrivano i bambini ma come agli adulti non arrivano più quindi un recupero di questo orecchio dell'adulto che l'ha perso rispetto alla lettura e quindi gli ho provato a dire guarda io leggo studio i libri per bambini e poi ne discuto con gli altri adulti che devono proporgli ai bambini e via dicendo lui mi guardava in maniera stranita stranita proprio stranita infatti gli ho detto cosa ti pare di questo mestiere e lui mi ha detto strano non ci avevo mai pensato che si potesse fare un mestiere del genere e in effetti come dire non è tra le prime idee che vengono in mente però questa con questo incontro mi ha fatto riflettere uno sul fatto che come dire tra il calciatore il veterinario le varie cose che i bambini ipotizzano forse ogni tanto si arriva al bibliotecario a il mediatore culturale lo studioso di letteratura chiamatelo un po come volete l'esperto chiamatelo come volete non è che proprio uno ci pensa subito infatti c'è questo progetto interessante attivato da amelin su bologna che è la quella della formazione dei promotori della lettura ora non sono sicura che questo sia il metodo e che questo sia di fatto io per esempio non mi considero una promotrice della lettura sono una studiosa di letteratura e metto in atto delle cose per cui poi arrivo certo promuovere la lettura però la prendo da un'altra strada ecco ho fatto un'altra strada per arrivare qui mi ha incuriosito questo mi ha incuriosito il fatto che io non riuscissi a definirlo quello che faccio perché dopo tutto avrei potuto dirgli e non mi è passato neanche per l'anticamera del cervello di dirgli che faccio la blogger passo da sette anni ore e ore della mia giornata a scrivere ricondividere maneggiare testi e strumenti tecnologici perché tutto questo funzioni a livello di comunicazione e in molti mi hanno definito mi definiscono una blogger ed è una cosa che io sento molto stretta perché perché ovvio che quello il mio strumento di comunicazione faccio la blogger e non c'è nessun problema sono felice di farlo spesso quando posso dico anche come lo faccio nelle nella playlist delle fatiche della blogger però da qui a chiudermi lì dentro no perché quello un mestiere che è derivato dalla necessità di condividere delle competenze di tipo culturale letterario quindi il mio mestiere un altro è come se uno dicesse che fa il postino e invece dice faccio il ciclista perché magari va a consegnare la posta in bicicletta scusate la similitudine proprio scema però è un po così no il blog fa da mezzo ecco quindi mi sono fatto delle domande rispetto a questo e non ho trovato una risposta la stessa cosa mi succede quando in occasione di qualche evento mi dicono cosa scriviamo scriviamo esperta mi sento male scriviamo blogger mi sento male lo stesso scriviamo studiosa non lo so cosa farvi scrivere perché non ho una definizione dell'identità di ciò che faccio però vi chiedo aiuto in questo perché bisogna trovarla questa definizione almeno un po per aiutare la comunicazione quindi se avete un'idea secondo voi qual è il mestiere che faccio ecco vi chiedo proprio un aiuto in questo senso ditemelo voi aiutatemi voi perché sono seriamente in difficoltà da questo punto di vista e soprattutto proviamo a far passare l'idea che questa cosa si può fare la possiamo fare tutti certo i modi diversi livelli diversi per carità ma non è una cosa da escludere anzi è un mestiere che forse in futuro prenderà qualche piede chi lo sa comunque aiutatemi aspetto il vostro aiuto nel frattempo alla fine di questo video un po strano e di cui vi chiedo anche scusa sono uscita un po dal seminato delle delle della chiacchierata sui libri che facciamo ogni venerdì vi ricordo che potete iscrivervi al canale che potete anche abbonarvi al canale sono è un abbonamento mensile che potete disdire quando volete avrete quasi tutte le settimane dei contenuti specifici dedicati ad alcune cose è una newsletter in più che quella per gli abbonati al canale o a teste fiorite e se vi incuriosisce invece approfondire questo mondo dei libri per bambini e ragazzi ecco questo è un altro aspetto del mio lavoro c'è il portale di teste fiorite lab dove troverete diverse proposte di corsi di formazione che spero potranno interessarvi noi ci vediamo venerdì prossimo e vi auguro un buon weekend